Conosco discretamente bene l'autrice del testo di cui andiamo a parlare oggi. Neanche un mese fa l'ho intervistata proprio in via propedeutica all'uscita di questo libro. La trovo una persona estremamente intelligente, oltre che una persona estremamente gradevole, e oggi è vittima di un, tra virgolette, ostracismo, di una censura, di un pacifico massacro mediatico perché dice la verità di chi e di cosa sto parlando. Elena Basile, l'Occidente e il nemico permanente. Quando ho intervistato Elena Basile le ho posto delle domande estremamente mirate e estremamente forti. Ho temuto per un momento di subire quello che io ho chiamato l'effetto Kemi Perez perché, tornando indietro di qualche mese, quando ho intervistato, sempre per il quotidiano per cui scrivo, il giornale d'Italia, il figlio di Simon Perez, e per me Simon Perez è uno dei personaggi più importanti della storia del genere umano, pur avendogli posto delle domande a cui sapevo il padre come avrebbe risposto, lui mi ha risposto proprio all'esatto opposto. Le cose cambiano nella vita e sono rimasto estremamente deluso. E dicevamo, quando ho mandato un certo tipo di domande a Elena Basile per intervistarla sulla questione in Russia, sulla questione in Israele-Palestina e in generale su quello che è l'assetto mondiale, avevo paura delle risposte, invece no. Le risposte della Basile sono state le risposte di una persona coerente con le sue idee, che non ha paura di portare avanti le sue idee, che non teme la solitudine che la sta circondando da parte di quelli che dovrebbero essere gli amici mediatici e che in perterrita porta avanti quelle che sono le sue convinzioni, ma non sono convinzioni personali, sono convinzioni sulla base della sua esperienza a livello diplomatico, perché parliamo sempre di un'ex ambasciatrice, e soprattutto sull'analisi dei fatti. Ecco, L'Occidente è il nemico permanente, che ha come focus la questione in Ucraina, pubblicato da Paper Fist, disponibile sia in cartaceo che in e-book, attualmente nelle prime posizioni di tutte le classifiche di vendita, è un libro che, diciamo, quello che chiameremo romanticamente il mainstream, ha volontariamente e sta volontariamente ignorando. Addirittura Paolo Mieli, stupendo me per primo, pochi giorni fa in un'intervista radiofonica non televisiva, dileggiava l'autrice definendola una putiniana e, pensando di fare il simpatico, si proponeva come iniziatore di una raccolta di firme per ospitare i putiniani in televisione e alla radio. Capite? Oramai viviamo in un contesto logico-storico per il quale esiste un unico pensiero, cioè o la vedi in un certo modo o sei il male, un male indefinito. Se non sei favorevole all'invio delle armi in Ucraina, pensi che Zelensky sia l'uomo sbagliato al posto sbagliato, e sei convinto che questo conflitto, come è, non è iniziato adesso, ma è iniziato otto anni fa, e sei convinto che la Russia abbia le sue ragioni, allora sei un maledetto putiniano e vai censurato. Se in Palestina, dopo l'iniziale, anche fomento, perché ti viene da dentro, pro-Israele, ti rendi conto che Netanyahu è in realtà bibi il macellaio e non è tollerabile quello che sta facendo il governo di Tel Aviv, sei un amico di Hamas. Capisci? Non esistono le sfumature, non esiste soprattutto la sapienza, non esiste la logica, esiste o il bianco o il nero. D'accordo? Ecco, tornando però in capo al testo, che sto in realtà riassumendo con questa introduzione, Elena Basile ci spiega, in modo chiarissimo, con il linguaggio più semplice che si possa usare, senza ricorrere alle forbite soluzioni linguistiche tipiche dei funzionari diplomatici, ecco, ci racconta tutti gli errori che negli anni, non ultimo alla questione Ucraina, hanno portato l'Occidente perennemente a sbagliare. E ci spiega il perché è assurda ed è folle la nostra complicità in quello che è uno scontro in Ucraina del quale lei, tra queste righe, ci racconta nei dettagli i fatti. Non si mette, non si sperdica in giudizi, ci racconta i fatti e dà una sua personalissima analisi degli avvenimenti e delle cause degli avvenimenti usando il buon senso. Questo titolo, L'Occidente e il nemico permanente, cos'è? Altro non è che un jacquus che la Basile fa nei confronti di noi tutti come Occidente e di quanto siamo incapaci non solo di analizzare gli avvenimenti ma di avere una nostra autonomia decisionale andando dietro interessi che spesso e volentieri, anzi troppo spesso e poco volentieri, non sono i nostri reali interessi. Ovviamente non è un libro pro-Ucraina o contro-Ucraina, non è un libro pro-Putin o contro-Putin. È un libro di buon senso e fondamentalmente è un libro che analizza, descrive e facilmente ti fa arrivare alla soluzione che questa guerra non sa da fare o se non sa da fare comunque non ci si deve partecipare o se proprio si vuole partecipare al conflitto ci si deve partecipare con la ricerca diplomatica della pacificazione tra le parti non inviando soldi e armi. Questo è quanto. Io ve lo consiglio. È una lettura straordinaria. L'autrice, come vi ho già detto, ha avuto il piacere di conoscere e di intervistarla. Cos'altro aggiungere? Se cercate una visione diversa da quella che potete trovare accendendo la televisione o la radio, l'Occidente è il nemico permanente è quello che fa per voi. Brava Elena Basile.